E' per l'esattezza un ecotomografo, un nuovo strumento in dotazione al reparto di chirurgia generale dell'ospedale di Cittadella. Un'apparecchiatura che grazie a un ampio parco sonde riesce a fornire al medico più immagini, visualizzando i tessuti e riuscendo persino a ricostruire in modo tridimensionale punti di particolare interesse diagnostico. Servono nell'ambito della chirurgia addominale in urgenza e servono nell'ambito della chirurgia addominale oncologica sia preoperatoria che durante l'intervento chirurgico per poter vedere all'interno della cavità addominale dove è posizionato il nodulo epatico per esempio e altro campo importante è nell'ambito proptologico. Per l'apparecchiatura la regione ha investito 135.000 euro.